Il corpo senza vita di Claudia Goffi, da 63 anni di Muscolini di cui si erano perse le tracce da domenica 9 maggio nel primo pomeriggio, è stato trovato attorno alle 16.30 di questo mercoledì 12 in una zona boschiva tra le località Canova e Longavina a Muscoline. Dopo ritrovamento e l'autorizzazione del magistrato di turno alla rimozione, la salma è stata ricomposta all'obitorio dell'ospedale di Gavardo, dove i parenti hanno effettuato il riconoscimento e gli inquirenti hanno proceduto all'esame esterno del cadavere su disposizione del magistrato. Quindi lo stesso magistrato ha disposto alla restituzione della salma alla famiglia per il funerale. La ricerca di questo mercoledì è stata particolarmente intensa grazie ad una finestra di bel tempo. Decini di volontari di protezione civile e vigili del fuoco, anche con il supporto di droni e di un elicottero, hanno passato a setaccio alla zona tenendo come riferimento il corso del fiume Chiese. Attorno alle 16.30 una squadra di volontari individuato il corpo senza vita della donna che giaceva ad un centinaio di metri da via Canova, non lontano dalla centrale idroelettrica di Longavina. Le prime verifiche hanno confermato quello che si era sospettato fin dal primo istante. I carabinieri della compagnia di Salò hanno verificato che nessuno era intervenuto a provocare la morte della donna. Intanto sono riprese questa mattina all'alba le ricerche di Laura Ziliani, la 56enne di Temù uscita di casa attorno alle 7 di questo sabato 8 maggio senza farvi ritorno. Dopo aver battuto tutte le zone impervie, le valli tra Temù e Garì, la valle di Canè, tra Premia e Cortaiolo, la Val Davio e la Conca di Casola sopra Ponte di Legno, ieri le squadre si sono concentrate in una zona abitata, passando a setaggio, garage, scantinati edifici abbandonati. La zona non ha delle camere di videosorveglianza, dunque tutto deve procedere con ispezioni di squadre specializzate formate da tecnici del soccorso alpino, quinta delegazione bresciana, coordinati da Pino Mazzucchelli con il capo stazione di Temù Giorgio Poli, squadre di vigili del fuoco con UCL, specialisti TAS e SAF regionali, il soccorso alpino alla Guardia di Finanza di Edolo e di Carabinieri di Venza d'Olio con i colleghi del comando di Breno. Intanto si è appreso che alcune testimonianze offerte spontaneamente nei giorni scorsi da parte di chi avrebbe visto Laura non sono state confermate poi per iscritto.